Il video è pronto, c'è lo storyboard, c'è il soggetto, c'è Fergie, è il 24 gennaio, c'è un bel tempo di merda e abbiamo dovuto rimandare il video, a domani, perfetto, fanculo. Ah, scusa, ma scusa. Tu avevi la testa già girata? Ah, già girata, e lei aveva già il braccio, cioè, ma è uscito dall'incodratura, poco più, passano. Aspetta, rifai, rifai, rifai. Arma, eh, eh. Quanto diventa, che quando l'ho chiudito? Ma com'è questo? Ma non gridare così Ora una volta È uscito questo messaggio sulla schermata Toglilo Non so com'è E' meglio quello più grande Benvenuto al backstage di PlayStation 4 Xbox Questo è il nostro PC che taglia Sto per lanciare sul mercato La nuovissima PlayStation 8 Tutto olografico O compro la PlayStation O compro la PlayStation Perché se compri l'Xbox Te lo affetto il PC Un mostro Ecco qua il briefing della macchina C'è un mostro armato Tante prese d'aria Per evitare il problema del suo riscaldamento Dei led Vuoi fare che la ventola della PlayStation È silenziosissima Non senti niente Vedi l'Xbox Di quel jet Poi c'è la scena della grafica Che voglio fare Che la grafica della PlayStation È top Oh prova prova PlayStation è meglio Xbox è meglio Una scatola Ah spero hai messo a fuoco Sì Il microfono Il microfono Cheese Ma La dimmi tutta Due due Sono le dimensioni Io preferisco Xbox È molto Molto Lo so le puoi leggere pure i messaggi di pot No No Aspetta Raga Facciamolo se Abbiamo rinnovato Non l'ha fatto più Vedi Non te lo fa pensare Vedi un po' tu Fai schifo Hai cane Prega Un po' di dubbi Pure i pesci Oh PlayStation Giochiamo a Uncharted 4 No Quella è esclusiva mia Posso giocarci solo io Giochiamo a The Order No Anch'io la posso giocare solo io Basta Tu se vuoi poi giocherai a P.E.G.O.L.2 Escusiva mia Escusiva tua Ci sono gli unicorni Gli elfi Magli Poi le rimbalzate Un unicordo con un l'arco di banana Valla prendere Valla prendere Uncharted Ma sempre costa come l'Xbox giocando Aspetta Mi serve proprio solo online Devo aspettare Tadam Aspetta Tadam Ahahahah 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 Qual è la vostra console preferita? Scrivetecelo nei commenti E avete altre eh Faide da proporre Tipo più contro più Proponetecelo E noi elaboreremo la cosa Tipo come abbiamo fatto Giusto Questo era il big stage Bella principale Gli unici e originali Siamo noi Mi raccomando Ricordatevi che non dimenticatevi GAME OVER